Siamo arrivati in Toscana. Anche a Paggia Cagliano lavori nelle scuole per adeguare le aule in vista del rientro in classe. Il Prato torna dal 19 settembre con una nuova formula itinerante e in varie location. Buongiorno dalla nostra redazione, lo avete sentito dai titoli, torna a salire il numero dei contagi di Covid-19. Ieri in Toscana se ne sono registrati 61, la maggior parte sono asintomatici. Si abbassa sensibilmente l'età media dei contagiati. Non si registrava un numero di nuovi contagi così alto da inizio maggio. Anche in Toscana il Covid-19 torna a farsi sentire. Ieri nella nostra regione sono stati 61 nuovi contagi accertati. Di questi 6 si sono registrati a Prato, tra i quali c'è anche un bambino di 10 anni. Se l'alto numero di nuovi contagi non rappresenta una buona notizia, fortunatamente dei 61 nuovi positivi solo un caso presenta sintomi lievi, mentre quasi tutti sono asintomatici e qualcuno poci sintomatico. Nessuno ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale, sono già stati posti in quarantena domiciliare. Attualmente in Toscana sono 15 le persone affette da Covid che si trovano in ospedale, solo una di queste è ricoverata in terapia intensiva. Le nuove positività emerse sono in gran parte risultato del tracciamento di contatti di casi già individuati nei giorni precedenti. 17 sono da ricondurre a un cluster nella provincia di Massa Carrara, rilevato in una casa famiglia. 8 della provincia di Arezzo fanno parte del gruppo di giovani italiani rientrati da un periodo trascorso all'estero al termine dell'anno scolastico, così come due casi rilevati rispettivamente nella provincia di Siena e di Grosseto, anch'essi rientrati da un periodo di vacanza all'estero. Infine, quelli rilevati nella provincia di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a casi rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti. L'età media dei 61 casi è di 32 anni circa, elementi che fanno capire come la guardia non debba essere abbassata neanche in vacanze e che il contagio ora si sta diffondendo soprattutto tra i giovani. Cambiamo argomento la pagina politica perché la Lega ha ufficializzato i nomi dei candidati pratesi per la corsa al Consiglio regionale in vista delle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Capolista sarà Gabriele Genuino, commissario provinciale del Carroccio. Tra i sei nomi figurano anche quello dei consiglieri comunali Patrizio Vattoni, capogruppo della Lega, e di Daniele Spada, candidato del centro-destra alle scorse amministrative e ora sui banchi dell'opposizione. Siedono sui banchi dell'opposizione, ma nel Consiglio di Poggio a Caiano, anche le altre due candidate, Diletta Bresci ed Elena Chiti. A completare la lista, Emilio Paradiso della Lega Toscana, che era stato il primo nome ufficializzato dalla Lega. E proseguono i lavori per adeguare gli istituti scolastici alle norme anticontagio in vista del rientro in classe. Anche a Poggio a Caiano il Comune è impegnato nella sistemazione delle scuole. Allora vediamo quali sono gli interventi in programma. Partiranno in queste settimane i lavori di edilizia leggera nelle scuole di Poggio a Caiano per garantire ai ragazzi un rientro in totale sicurezza. I 70.000 euro previsti dal programma operativo nazionale, insieme ad altri 70.000 euro, frutto dell'avanzo di bilancio del Comune, saranno impiegati per migliorare il confort ambientale degli spazi e rendere le aule modulabili, a seconda delle necessità, in linea con le misure anti-Covid. Ecco perché anche queste risorse del Ministero, 70.000 euro, alle quali aggiungiamo altrettanto di finanziamento comunale, serviranno per far sì che la nostra scuola sia una scuola più flessibile, più dinamica, nella quale i locali possono passare a una funzione, tipo quello di fare una lezione frontale, a fare un lavoro di gruppo, piuttosto che a mangiare, piuttosto che a fare un'attività di laboratorio in poco tempo, grazie a degli interventi tipo le pareti mobili, ma una scuola che faccia un salto di qualità anche in termini di sicurezza, igienica e quindi sicurezza per la salute dei nostri ragazzi, con nuovi bagni, con i dispenser per il lavaggio delle mani. Scendendo nel dettaglio, alla scuola primaria Lorenzo il Magnifico sarà realizzata una parete divisoria a supporto di due nuove aule che saranno ricavate da uno spazio oggi riservato alle attività informatiche. Alle scuole medie Filippo Mazzei sarà invece creata una parete mobile che permetterà a due classi di utilizzare anche gli spazi dell'aula magna per le lezioni frontali. Alla primaria Edmondo di Amicis di Poggetto verrà demolito un tramezzo per ricavare un ambiente polifunzionale. Infine alla materna Sandro Pertini sono previsti interventi di varia natura funzionali alla riorganizzazione dei locali. Ma soprattutto la novità più importante è che vogliamo mettere a disposizione anche spazi civici, come le nostre Scuderie Medice e dei nostri ragazzi. Le Scuderie Medice sono un luogo al quale tutti noi poggesi siamo abituati, siamo affezionati e vorremmo che questo spazio diventasse uno spazio sempre più vissuto. Perché no? Anche dai giovani, già la frequentano per la biblioteca, ma perché non far portare i nostri ragazzi, per esempio quando devono studiare storia dell'arte piuttosto che letteratura italiana, piuttosto che fare musica, a vivere quegli spazi anche la mattina o il pomeriggio. Dal 19 settembre torna IT Prato con una formula nuova e itinerante. Andrà avanti fino al 31 ottobre con numerosi appuntamenti in varie location della provincia. Un'edizione speciale per IT Prato 2020, un appuntamento diffuso e dinamico itinerante. Cambia la formula non più concentrata, ma articolata dal 19 settembre al 31 ottobre per un'edizione speciale itinerante. Una modalità open air del tutto nuova, con appuntamenti ogni weekend, e che termina con la giornata nazionale del trekking urbano, quando tutto si sposterà lungo il fiume Bisenzio. Il gusto e le no gastronomia si fondono con il tessuto urbano ed extraurbano, un'insolita commissione tra storia, cultura, arte e sapori, con le passeggiate del gusto, itinerari a scala urbana il sabato pomeriggio, che riveleranno una prato sorprendente, raccontata e scoperta attraverso percorsi nei luoghi più insoliti della città e dintorni, ville e palazzi, piazze e giardini. Itinerari extraurbani fuori porta, la domenica sul territorio, lungo la via della Lana e della Sete e lungo la via Medicia, coinvolgendo le cantine e viti vinicole proprio in epoca di vendemmia, con tanto di pranzi tra i vigneti. Mini tour organizzati per far conoscere le eccellenze pratesi e per portare il pubblico alla scoperta di luoghi particolari e quasi nascosti, dove le degustazioni si intrecciano alle performance. Gli appuntamenti saranno coordinati da guide turistiche e guide ambientali specializzate e vedranno la partecipazione di chef, produttori, viti vinicoli e artigiani. I posti disponibili da prenotare saranno massimo 20 a tappa, tutto si svolgerà nel più rigoroso rispetto del vigente protocollo di sicurezza. Sabato, con la celebrazione presieduta dal Vescovo di Pistoia, è stato ricordato l'anniversario della morte di madre Margherita Cagliani, fondatrice dell'Istituto delle Suore Francescane Minime del Sacro Cuore che davanti alla Villa Medicia di Poggio Accaiano hanno la loro casa madre. Da Poggio Accaiano sono arrivate in mezzo mondo, addirittura in una terra affascinante e difficile come la Cina. Non si sono mai date limiti geografici le suore francescane minime del Sacro Cuore che proprio davanti alla Villa Medicia di Poggio Accaiano hanno la loro casa madre. Oggi ci sono comunità in Egitto, Betlemme, Brasile e Sri Lanka, oltre che in Italia una dimensione missionaria internazionale che è stata sottolineata anche sabato con la celebrazione presieduta dal Vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli, che ha segnato l'inizio di un anno dedicato alla memoria di madre Margherita Cagliani, morta nello stesso giorno del 1921. È importante perché ci aiuta davvero a interiorizzare, ogni tanto fa bene avere questi momenti provocatori, per rivisitare un po' le motivazioni della nostra vita, il senso del vivere insieme e riscoprire davvero i valori che ci hanno animato nella scelta di vita e condividerle con i fratelli vicini, poggesi in primo luogo e non solo, fratelli dove stiamo a operare nelle nostre realtà, dove abbiamo operato e con i quali manteniamo rapporti di amicizia. Erano minimi le sei giovani suore che nel 1932 partirono da Poggio Accaiano dirette verso l'allora assai lontana e misteriosa Cina, dove restarono missionari nella provincia del Fukien fino al 1949, quando vennero cacciate dalle regime di Mao ed erano minime le altre quattro suore che per 39 giorni, nell'aprile del 2002, furono protagoniste di pace a Betlemme durante il violento assedio alla Basilica della Natività. Due testimonianze di fede e coraggio nella lunga storia di un istituto religioso femminile francescano, fondato nel 1902 dalla madre Margherita, al secolo Marianna Cagliani, proclamata beata nel 1989 da Giovanni Paolo II. La fioritura della santità è il segno più bello della fecondità della Chiesa. E poi quando una figura di donna, di donna che insomma all'inizio del secolo scorso si è data da fare, si è aperta al mondo e nell'amore di Cristo ha visto però la necessità di aprirsi ai fratelli, chiunque si fossero nel bisogno, direi che è una gioia avere questa testimonianza dentro la nostra famiglia. Però è anche bello che questa testimonianza diventa testimonianza per il mondo, perché le suori sono sparse un po' tutto il mondo. Insomma, le previsioni meteo, come sempre a cura del Consorzio LAM. Buongiorno e ben ritrovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio LAM. Condizione di alta pressione e tempo stabile nella giornata di oggi, su gran parte della nostra penisola. Anche nei prossimi giorni prevarrà l'alta pressione, anche se qualche infiltrazione di aria un po' più fresca in quota porterà a qualche episodio di instabilità lungo la dorsale appenninica ed in particolare sul nord Italia e l'arco alpino. Andiamo a vedere il proseguo di oggi. Sereno, poco nuvoloso, con ampie schiarite lungo la costa, qualche annuvolamento pomeridiano nella zona interna, in particolare sulla dorsale appenninica, non si esclude qualche breve piovasco, soprattutto sull'appennino settentrionale. Comunque fenomeni brevi e di scarso rilievo. Temperature decisamente elevate, massime anche di 36-38 gradi, soprattutto nelle pianure interne, localmente anche sul Grossetano e sulla Maremma. Lungo la costa la situazione andrà decisamente meglio. Temperature sì elevate, oltre 30 gradi, ma la brezza del pomeriggio porterà decisamente un sollievo. Venti, appunto, come dicevo, al regime di brezza, dal nord-ovest nel pomeriggio fino a moderati, i mari nel complesso poco mossi. Infine, per domani non cambierà molto, sereno, poco nuvoloso al mattino, saliranno un po' le temperature minime, complice anche l'aumento dei tassi di umidità, che faranno percepire maggiormente il caldo. Le massime non cambieranno di molto, quindi ancora 3-4 gradi sopra le medie. Nel pomeriggio di domani sempre qualche annuvolamento in più. Nel pomeriggio, con qualche rovescio temporalesco, soprattutto in Appennino, possibili anche intorno al Montamiata. È tutto, grazie per l'attenzione. È tutto anche per noi, non ci sono aggiornamenti. Il Tg torna alle 20.30. Buon pomeriggio.